Salve tutti e bentornati in questo nuovo tutorial ragazzi in questo nuovo video di spiego come risolvere così il problema riguardo all'errore del bluetooth quindi tutti i dispositivi che non riesci a collegare al tuo dispositivo quindi al servizio bluetooth sul tuo sistema operativo io visto che ho una scheda di rete wifi però non c'è il bluetooth sopra mi sono arranciato con una chiavetta bluetooth quindi collego così la mia chiavetta bluetooth vado a cliccare direttamente qua sopra questa rete qua ed ecco qua il bluetooth che si è connesso ora se non dovesse funzionare possiamo sempre andare su trovo e risolvo i problemi dei dispositivi bluetooth facciamo avanzate esegue operazioni di ripristina automaticamente quindi facciamo avanti rilevamento dei problemi così facendo ci fa capire qual è il nostro problema dei dispositivi che non si collegano lo strumento di risoluzione dei problemi ha portato modifiche nel sistema quindi provare e ripetere attività che si deve eseguire in precedenza quindi abbiamo cerca lo stato della radio risolto il problema è stato risolto e facciamo sì l'istrumento di risoluzione dei problemi se non dovesse funzionare andiamo sul tasto destro su start gestione dispositivi questo è il nostro bluetooth tutti i dispositivi bluetooth quindi se tu hai collegato un dispositivo attraverso bluetooth clicca su quel dispositivo se c'è un triangolo giallo quindi vuol dire che non funziona quindi ha smesso di funzionare tasto destro su aggiorna driver cerchi driver nel computer scegli da un elenco dispositivo bluetooth e faccia avanti windows ha completato l'aggiornamento dei driver puoi semplicemente anche fare tasto destro sopra disabilita il dispositivo abilitarlo oppure tasto destro sopra disinstalla il dispositivo ora che l'hai disinstallato puoi riconnetterlo di nuovo vedere se funziona se non funziona riavvia il sistema e riprovare a connettere il dispositivo che non si connette proprio al computer chiudiamo un attimo qua e andiamo sui servizi scendiamo fino a giù fino a trovare il bluetooth user service tipo di avvio manuale quindi il servizio del mio bluetooth è arrestato e faccio avvia tipo di avvio manuale e adesso lo stato di servizio è in esecuzione e faccio ok clicco qua sopra vado su dispositivo ed eccole qua che mi rileva alcuni dispositivi però che non ho connesso e nuovi dispositivi che sta rilevando nella casa aggiungo il dispositivo bluetooth ed ecco che un dispositivo che mi ha rilevato per altri problemi ancora puoi commentare sotto al video cercherò di realizzare altre guide al riguardo e aiutarti nel risolvere il tuo problema quindi grazie a tutti per questa visione e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial ciao